giochi sul nostro podcast il podcast ludico bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast beh cosa dire tanto ormai io a sto punto io le presentazioni le salterei perché tanto ormai lo sapete ci sono sempre io matte e come sempre o quasi perché ormai non è che proprio sempre 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 presente non lo è ma stavolta sì e quindi dato un caloroso benvenuto a lucaciglione grazie ragazzi grazie a tutti di questo applauso sono sempre molto felice di alzare il livello del podcast mi spiace che non riesco ad esserci sempre ma vabbè si marlino non mi sostituisce più che egregiamente se niente volevo dire che stasera di nuovo dopo averlo fatto già l'anno scorso diventiamo internazionali internazionale perché qui con noi direttamente da luton giusto da luton sì sì c'è avete già sentito il nostro yuri grande yuri a tutti buonasera e siccome il podcast sta riscuotendo un favoloso successo hanno dovuto chiamare qualcuno come me per abbassare il livello un attimino per riportarlo quei piedi per terra quindi la puntata me dovrete subire a me sì ma poi grazie ai nostri sponsor che ci ricoprono di di soldi possiamo anche permetterci un ospite internazionale in realtà in realtà abbiamo coinvolto la ugly doll l'ugly old scusate la ugly old che è una clinica è una clinica londinese che fa sempre parte del circuito anche che di cui fa parte la vecchiacci la ugly old e quindi siamo potevamo prementerci anche questo collegamento bene 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 infatti credo che yuri sia proprio alla ugly old sì sì sono manager bene 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 iniziamo subito dicendo subito alcune novità come avete visto nel gruppo giochi sul nostro podcast è venuto il signor gianfranco tutti se ne sono accorti ma il signor gianfranco è un bot quindi è stato programmato dalla vecchiacci per rispondere a tutte le vostre domande e quindi potete interrogarlo chiedendo tutto chiedendo qualsiasi cosa in particolare se gli mettete lo slash davanti lui è più contento e non era persona vera quindi ci sono stati anche degli abbandoni seguitori all'entrata del signor gianfranco quindi stato ma secondo me erano spie della concorrenza sì forse non hanno capito che lui rispondeva in automatico facciamo una cosa rinvitiamo quelle persone che sono uscite dicendo non preoccupatevi potete tornare tranquillamente nel gruppo il signor gianfranco risponde solo se chiamato non è che fa chissà che altri altre cose magnifiche e quindi sì sì questa è la prima grossa novità che appunto avrete visto se fate parte del gruppo telegram poi la seconda novità la seconda novità è che matti si è fatto ancora crescere di più la barba eh sì è proprio quello che non avete voi perché è un enorme barbace spugliosa esatto 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 proprio quella va bene cosa dite ci diamo subito la linea al kogo così alziamo un attimo il livello che siamo partiti veramente male vai 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 kogo dacci dai bianco grazie ragazzi prendo la linea per una nuova puntata del tg ludico di giochi sul nostro podcast cominciamo subito con una notizia che riguarda il designer jerry hawthorne che ama creare mondi ricchi di storie lo ha fatto in mess and mystics in fiabe di stoffa e in aftermath e lo sta per fare di nuovo in familiar tales un gioco cooperativo di avventura per uno quattro giocatori che fa parte della fortunata serie adventure book di play that games e passiamo al mondo kickstarter che questa settimana ci riserva un sacco di novità a partire da weather machine di due mostri sacri come vita alla serda e jano tool alle matite la campagna ha raggiunto l'obiettivo quasi immediatamente e a meno di 24 ore dalla sua uscita ha già raccolto 3850 becker si tratta di un piazzamento lavoratori per 1 4 giocatori e partite della durata che varia da 60 a 150 minuti se la serda vi spaventano potete puntare sulla campagna di the spirit of eden di joseph fari che con la sua alone edition si è specializzato in solitari proprio come questo titolo un gioco di dadi accompagnato da alcune carte in cui l'obiettivo dei giocatori è respingere i goons che vogliono invadere l'eden siccome ho a cuore i vostri portafogli non vi parlerò delle campagne di mega pools di egemoni e the heroes of the shire ma se proprio volete guardarle fate voi se però avete apprezzato ogni buzz vi segnalo che è partita la campagna per la sua prima espensione fall flowers e finiamo questa lunghissima carrellata sulle campagne kickstarter con una un po particolare vi parlo infatti di mini pedia for gamers si tratta di un nuovo volume completamente illustrato passo dopo passo per imparare a dipingere le vostre miniature cambiamo di nuovo completamente ambientazione per parlare dell'ultimo titolo di stan kordovski autore già di dice hospital e rurik down of kiev sto parlando di resurgence la campagna al momento non ancora raggiunto l'obiettivo anche se già molto vicina il gioco è un german competitivo che può supportare da 1 a 4 giocatori promette di offrire una miscela unica di back building posizionamento lavoratori e gestione delle risorse che creerà un'esperienza di gioco unica nel suo genere all'inizio della partita ogni giocatore sceglierà un eroe a capo di un piccolo gruppo di sopravvissuti e di alcuni rifornimenti e ad ogni round dovrà pianificare segretamente dove inviare i propri lavoratori per svolgere vari compiti ed esercitare la loro influenza ambientato in una mosca apocaliptica in stile mad max cambiamo completamente ambientazione e ci spostiamo nello spazio profondo perché devo presentarvi l'ultima fatica di peter mcpherson l'autore di tiny towns si tratta di wormholes pubblicato anche questa volta da alderac entertainment group un titolo per uno cinque giocatori della turata abbastanza contenuta che non dovrebbe andare oltre 60 minuti in una galassia pacifica è stata inventata una nuova tecnologia e wormhole appunto che consentono alle navi di deformarsi da un punto all'altro e apre numerevoli possibilità per il commercio e viaggi si tratta di un gioco di pick up and deliver con mappa modulare e griglia esagonale a breve la ospre games renderà disponibile brian boru hiking of ireland un gioco di maggioranza di drafting e di trick taking per 3 5 giocatori e partite che dureranno tra i 60 e 90 minuti in brian boru vi sforzerete di unire l'irlanda sotto il vostro dominio assicurandovi il controllo della regione attraverso la forza l'astuzia e i matrimoni combinati l'autore pier silvester è lo stesso di the king is dead the lost expedition e village green passiamo ora una notizia per gli amanti dei pesi massimi perché l'editore olandese splotter spellen ovvero i designer geroen dumen e joris verzinga in genere rilasciano un nuovo gioco ogni tre anni e ora hanno appena fissato una data di uscita per orzles carriage un titolo per 35 giocatori della durata che varia dalle tre alle quattro ore orzles carriage è un gioco sugli albori dell'automobile e i giocatori interpretano aspiranti industriali che cercano di scoprire quali caratteristiche apprezzerà il pubblico quando acquisteranno queste nuove costose e assolutamente sconosciute carrozze senza cavalli chi di voi si ricorda di clash of decks il gioco messo in vendita a soli due euro bene è appena uscita la season 2 che comprende 6 nuove espansioni indipendenti per 216 nuove carte 12 nuove abilità speciali e un nuovo modulo campione più un generatore di carte personalizzato l'obiettivo è stato raggiunto in poco più di 40 minuti anche se questa volta il contributo minimo per un solo mazzo è di 8 euro 30 se invece li volete tutti e 6 ad inizio dicembre 2021 sarà disponibile per cranio creation horns up il primo gioco da tavolo ambientato in un concerto hard rock e non poteva che essere in collaborazione con mi lacuna coil la band italiana metal più famosa al mondo il titolo è un party game per 39 giocatori a partire dagli 8 anni d'età e per partite che dureranno all'incirca 30 minuti insieme alla scatola base nello stesso periodo sarà disponibile anche l'espansione black deck che introduce rappresenta le situazioni più atroci ed iconiche che si possono vedere ad un concerto hard rock sempre in tema di party game asmoday italia porterà nel nostro paese l'adunanza dei malvagi la trasposizione di gathering of the wicked un gioco per 6 12 giocatori a identità segreta facile da imparare con i più celibri cattivi disney una nuova esperienza di gioco della linea i lupi mannare di rock scura prima di passare saluti vorrei lanciare una sfida ai nostri ascoltatori nel film gone girl di david fincher del 2014 pubblicato in italia con il titolo l'amore proibito compaiono diverse scatole di giochi da tavolo venite nel nostro gruppo telegram e postate quante più foto possibile tratte dal film indicando in di lascalia il gioco che è raffigurato e adesso è davvero tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata del tg ludico di giochi su un altro podcast ciao bene grandissimo cogo anche oggi novità succose direi si vede che anche lui non ha la barba tra l'altro il cogo la scorsa settimana ha lanciato un po l'ester egg sa se anche questa settimana era qualcosa da indovinare nel caso scrivete cielo nel gruppo e adesso niente veniamo a iuri e sapete benissimo che quando c'è iuri si parla di kickstarter perché lui è il nostro la nostra vedetta si si praticamente passa più tempo su kickstarter che con sua moglie ma non solo con kickstarter dai su game found quindi diciamo figlio scusate ragazzi io ho capito che dobbiamo parlare del fatto che qui in inghilterra non usano i bidet nel bagno no credo che la vecchiacci ci sia stato un attimo in cui pro quo ma guarda quando quando la vecchiacci è venuta la ugly hold qui in inghilterra e non ha fatto tutto il tempo non ha fatto altro che lamentarsi che non c'era il bidet nel bagno pensavo che la puntata era preparata questa cosa invece no vogliamo sfruttare le tue conoscenze di kickstarter del settore del settore crowdfunding perché c'è non so se lo avete notato ma la domanda che tutti si ferle sono sempre di meno i giochi veramente vari di più o meno arrivano bene o tutti i riteli adesso con questo soprattutto c'è anche la brexit adesso o non ne parliamo guarda non ne parliamo della brexit che proprio ancora se non capi bene tutte le conseguenze che sta portando tempo c'è una carenza di lavoro di lavoratori nei settori quelli che qui dicono unskilled cioè che non richiedono particolari abilità per essere fatti come per esempio una ristorazione dove lavoro io perché prima comunque c'era un continuo flusso di nuovi immigranti che quindi magari per entrare nel mondo del lavoro appunto utilizzavano questi lavori manuali diciamo così e per cominciare a lavorare tutto quanto adesso noi da quando abbiamo riaperto il ristorante a luglio siamo in costante ricerca di personale e non si trova vai 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 luca vai è la tua occasione io a volte ho vinto a spago spaghetti non so se io posso anche annoverare una vittoria al ristorante italia però si parla di ristorante italia non al ristorante uk era bello tra l'altro era bello spago spaghetti bello bello sì siamo a me però piaciuto ce l'avevo giocato un botto di tempo fa ma qual'era quello che c'ha tutta quella specie dei fili con dentro stitoli che si incastravano e tu dovevi cercare di decidere quale token toie per cercare di arrotolare bravo vedi che lo conoscono tutti lo facevano anche gigante in televisione era sì è vero mi ricordo c'era tipo un programma del genere hanno rifatto stanno rifacendo brivido tra l'altro non chiamatelo brivido quella roba esatto no quello non è brivido non è brivido cioè veramente 15 anni fa la qualità era migliore penso che sia un'operazione fatta commerciale ma neanche da nostalgia sì ma non so neanche se sono i veri i veri possessori del marchio non lo so probabilmente l'avranno comprato una brutta copia e non c'è neanche il disco cioè una cosa va bene no invece c'è facciamo spago spaghetti potremmo fare una cosa più figa addirittura potremmo farlo gigante per la prossima alla prossima con allora se volete allora se volete spago spaghetti gigante alla con apriamo immediatamente matte un patreon o un tp o un paypal e dateci dei soldi ve li restituiremo come un kickstarter se non riusciamo a raggiungere l'obiettivo per avere spago spaghetti alla con quanto servirà almeno 10 mila euro se raggiungiamo 10 mila euro lo facciamo altrimenti verrete rimborsati va bene va bene ok nella prossima puntata avrete tutti i dettagli per per fare i vostri versamenti dai uri raccontaci un po di queste spese di questi no è io ogni tanto mi capita di parlarne le introduzioni che faccio nelle vedette e ovviamente è causa covid e tutto quanto si è creata una scarsità di container in cina perché praticamente non facciano altro che esportare ma non importare quindi sti container non tornavano e questo ha portato a un incremento delle dei costi appunto dei container per le spedizioni che sono in alcuni casi quintuplicati decuplicati ovviamente non è una cosa che è successa solo nel mondo dei giochi da tavolo ma è successa diciamo per tutto ciò che le cose che vengono prodotte prodotte in cina diciamo che per fare un paragone quello che ho letto io in giro e leggendo un po vari gruppi anche internazionali prima un container da 40 foot stava sui 3 4 mila dollari adesso meno dei 15 mila non lo trovi e se non bastasse la cosa del prezzo e praticamente ho sentito anche alcuni che non facciano altro che rimandaglie posticipare la spedizione in continuazione sì ma infatti i ritardi si si calcolano addirittura ormai quasi più in mesi che in settimane però anche sta cosa dei ritardi io non l'ho capita molto bene perché vedo alcune campagne che nonostante tutto sto sta confusione che confusione sto problema continuano comunque ad avere di la madonna probabilmente stamperanno in europa no 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 stampando dalla cina altri invece sembra quasi che parliamoci chiaro i ritardi nel mondo dei kickstarter del crowdfunding ci sono sempre stati esatto anzi quindi questo adesso sono quelli che sono imprecisi che sono l'eccezione esattamente esattamente cioè io non ho ricevuti veramente poche ho fatto più di 70 campagne non ho ricevuti veramente poche in tempo ancora meno in anticipo quindi questa è una cosa che c'è sempre stata però vedo da una parte a volte cioè io adesso non voglio pensare male però penso che qualcuno anche utilizzi questa scusa per coprire certe mancanze diciamo organizzative sì ritardi propri o tutto quanto cioè io c'è 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 una c'è una campagna che sto aspettando che dove essere sta dove dove essere consegnata gennaio 2020 mi sembra che uno che stavano consegnando la prima wave quest'estate io ho fatto spedizione unica se va bene forse lo vedrò per metà 2022 e stiamo parlando di una campagna che mi pare era fine 2018 inizio 2019 cioè lì adesso il covid si è messo di mezzo sì però lì ci sono stati problemi secondo me ci sono stati altri problemi capito sì 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 certo al netto di al netto di problemi di fregature eccetera se non ho capito male da quello che ho letto io ho letto veramente pochissimo per due motivi uno che non so leggere due che comunque non è non è tanto il mio core core target quindi mi informo relativamente mi sembra di aver capito che il problema quale è che i container sono usciti a un certo punto da cina in grandissimo numero ma non stanno tornando perché la cina non sta importando quindi in esportazione loro stanno continuando a lavorare quindi tutti i contenuti sono usciti ma non importando non sono più tornati indietro quindi il numero di container è inferiore quindi quello che succede qual è che il prezzo aumenta qui se tu vuoi ma la legge del mercato la legge del mercato questo punto aumenta ma soprattutto se se tu lo vuoi a certo punto c'è che crescono e crescono e crescono il mio offerente quindi tu arrivi e offri di più non gliene frega niente che si erano impegnati con matte lo danno a me e te rimani senza esatto cioè quindi ti dicono ora ti rimandiamo la prossima settimana e poi trovano qualcun altro io ti dicono la settimana dopo ancora quindi diciamo che nonostante l'aumento magari magari gli editori sono anche disposti a pagare un container 10 volte tanto beh mica tanto magari c'è quello che lo paga 20 volte tanto e loro si rimangono comunque fuori ma loro oltre una certa soglia non possono andare perché altri punti vanno per forza in perdita cioè il loro margine è già stessa sottiglia ma possono arrivare solo fino a un certo punto esatto il problema è che una possibile soluzione è che adesso si vada più verso una decentralizzazione di tutta la stampa e della produzione anche in altre zone però la Cina è praticamente imbattibile o quasi perché ti stampano tutto quello che vuoi a un prezzo risorio invece se tu volessi farlo in Europa o in altre aree ti costa di più sì però aspetta allora da una parte è vero quello che dici però è anche vero che se prima spedire dalla Cina col container al produttore all'editore che costava facciamo un esempio 10 dollari a copia ok adesso magari ne costa 10 12 dollari a copia ok perché ovviamente il container è il prezzo schizzato ora con quei 8 10 dollari di differenza un editore potrebbe anche pensare di produrre in una zona più vicina come potrebbe essere in Europa perché stavo leggendo appunto che qualcuno stava facendo discorsi magari di cominciare a lanciare diciamo delle produzioni europee non dico statunitensi ma almeno europee comunque se pensiamo alla Waken Reams tutto ciò che è carta e cartone produce in Polonia sì ma in Polonia ci sono non c'è solo Waken Reams che stampa lì ma ci sono anche altre attività cioè altre realtà esatto quindi già loro il problema rimangono le miniature che da quello che ho capito a livello di qualità e prezzo in Cina sono ancora inarrivabili però se la tendenza è questa qui delle spedizioni vuoi dire qualcuno si mette in testa apri una fabbrichetta e fa un lavoro come se deve io credo che molte compagnie soprattutto europee potrebbero incominciare a valutarne il discorso perché sì è vero mi costa di più la produzione però li risparmio in spedizione quindi alla fine il prezzo finale rimane più o meno quello è come infatti proprio questa era la domanda soprattutto per noi europei diciamo non c'era già qualcuno che stampava in Europa che a questo punto è diventato molto molto più concorrenziale e quindi tu lo sai perché io so che ci sono comunque delle case appunto lì in Polonia ma guarda a livello delle carte le più famose in Europa sono la carta Mundi che è belga e la Tref che mi pare che sia proprio polacca e la carta Mundi diciamo che tutti la definiscono come la miglior qualità che puoi trovare però ovviamente si riflette anche sul prezzo mentre la Tref dovrebbe riuscire a offrirti un buon rapporto qualità prezzo chi è dove stampa l'Awaken Reams sinceramente non lo so però da quello che ho capito è una ditta polacca quindi comunque sembra che la Polonia almeno si sta prendendo alcune fette diciamo di mercato sotto il punto di vista della produzione però ripeto se questa situazione continua se dovesse perdurare allora quel punto se potrebbe essere un cambio di direzione anche perché adesso la gente si pone il problema se dovesse succede qualcos'altro di simile come facciamo? cioè ok il Covid è stata un'eccezione però fra due o tre anni potrebbe essere qualcos'altro chi lo sa? sì sì ma poi soprattutto io da utente finale io mi vado anche a preoccupare che lo so che non perché questi soldi in più che un editore deve tirare fuori finché è Kickstarter e mi ha diciamo io ho già finanziato quindi non è che mi vengono a chiedere altri soldi perché altrimenti non si anche se alcuni l'hanno fatto se non ricordo male qualcuno forse ha fatto la richiesta per guardate visto che ci sono state queste complicazioni vi chiediamo che ne so 10 dollari in più ma soprattutto nel mondo retail nel mondo proprio da negozio e lì secondo me ci saranno ancora più conseguenze perché alla fine il prezzo di listino sarà ancora più alto non solo rispetto a Kickstarter ma anche solo quello di un anno fa di due anni fa perché comunque quei soldi dovranno pur rientrare no? ma quello è un dubbiamente io infatti sinceramente io stavo guardando alcune novità di Essen e ho notato ho notato un aumento dei prezzi in generale giochi che magari uno due anni fa ti divendevano sui 30 40 euro adesso stai già sui 50 60 quindi già si incomincia a sentire anche il retail e sta facendo era inevitabile come cosa cioè non è che dice che colpisce solo i Kickstarter io parlavo nel particolare di Kickstarter perché giustamente tu i soldi li dai in anticipo aspetti che te lo producono aspetti che te lo spediscono e quindi stai lì che fremi mentre il retail tu dici ok quando arriva nel negozio me lo compro pure se arriva a tre mesi di ritardo dici eh sì però comunque arriva con un prezzo più alto quello sì quello sì quello indubbiamente che poi bisogna anche tenere in considerazione un'altra cosa anche il discorso chiamiamolo tra virgolette chilometri zero nel senso che questa l'abreco io mi è capitato mi è capitato più ultimamente mi è capitato più volte di leggere di qualcuno che si preoccupa anche del footprint che portano i giochi da tavolo sia in termini di contenuti nel senso componentistica ma anche in termini di produrre in Cina e portare tutto il mondo a livello di inquinamento e cose varie capito quindi diciamo che questa potrebbe dare una svolta in generale anche al mercato la produzione di giochi da tavolo nel senso magari fare produzioni localizzate in modo da minimizzare i trasporti e poi c'era stata una campagna poco tempo fa non mi ricordo il nome adesso che ha fatto del suo il suo cavallo di battaglia appunto quello di produrre il gioco con componentistica riciclata a impatto quasi zero diciamo beh o sinceramente il settore del gioco da tavolo se uno va a vedere come dire dei costi diciamo di lavorazione della carta lavorazione della plastica eccetera altissimo cioè quando mai puoi usare della carta riciclata quando puoi usare cioè poi comunque quello che tu usi è vero che lo tieni lo rigiochi quindi non è un bene di consumo usagetta tralasciando i giochi legacy però comunque c'è anche tutto quell'effettivo le fustelle adesso mi vengono in mente sono tutti comunque carta che non è carta che ricicli facilmente almeno a quanto ne so certo poi devi considerare anche in alcuni paesi magari non c'è ancora una raccolta differenziata fatta per bene ma poi comunque è anche cartone trattato in modo tale che sia il più il meno infiammabile possibile cioè che difficilmente può prendere fuoco è ovvio che prenderà fuoco però ci mette un po' non è che se c'è una fiamma lì vicino questo va come una carta normale certo ci sono delle sostanze che vengono utilizzate per cercare di evitare il più possibile poi è ovvio che si scatena c'è un incendio in casa anche quelli bruciano e quindi anche quello sono comunque spese e che anche anche nel kickstarter dell'isola di fuoco pensa soprattutto nel kickstarter dell'isola di fuoco è fatto di fuoco i tizioni ardenti per portarli esatto per quello che non l'ho preso perché era poco realistico esatto va bene va bene comunque sì questo qua è un problema che comunque lo vivremo veramente stiamo cominciando in realtà a viverlo seriamente anche non solo chi utente kickstarter o core funding in generale ma anche come diciamo adesso anche un po' nelle realtà tradizionali da negozio che sia online o che sia fisico quello è un problema anche perché credo che molti editori abbiano deciso un po' anche di tagliare su quello che è l'aspetto del localizzazione perché ha una spesa ulteriore e quindi magari usciranno solo nelle lingue più gettonate quelle che hanno un bacino di utenza maggiore può darsi come alcuni si stanno rivolgendo rivolgendo tra virgolette stanno virando su manuali in formato digitale io per esempio ho ricevuto da poco clash of decks mi pare che era un progetto mi pare francese che praticamente ti dava questo primo mazzo dei 35 carte gratuitamente pagavi solo 2 euro per la spedizione perché adesso poi a novembre verso fine novembre faranno una campagna con tutte le varie espansioni se ti è piaciuto il gioco e praticamente è arrivato senza regolamento e ci hanno dato un messaggio con tutti i regolamenti nelle varie lingue in formato digitale vabbè anche quello può essere magari una goccia nel mare però è un qualcosa magari però non penso che sia una cosa che da onestamente da appassionato del giocatore a tavolo io storcerei il naso se un gioco che mi metto a pagare 50, 60, 80 euro 100 euro tu mi proponi la versione digitale del regolamento cioè un conto che tu mi dici ok faccio il keystarter e non ho i numeri per stampare i regolamenti nelle varie lingue il gioco è indipendente dalla lingua metto il regolamento stampato in inglese se vuoi il regolamento localizzato te lo do in digitale è quello già un discorso però abolire completamente il regolamento non la vedo una cosa onestamente molto positiva viabile diciamo che verrebbe accettata dalla comunità perlomeno esatto io vedo già spesso e volentieri molti che storcono il naso all'idea dei manuali della fantasy flight che ciclicamente ti dicono si guarda questo qua è il regolamento però se vuoi la versione aggiornata vatela a scaricare dal sito sì quello è un vantaggio della versione digitale nel senso che se fanno solo versione digitale ovviamente e devono fare delle correzioni e cose varie le fanno in formato digitale quindi tu sai che quando lo vai a scaricare c'hai quella più aggiornata sì però se io l'ho scaricata che so sei mesi fa poi non è che tutte le volte sto a guardare ah è uscita una versione nuova cioè magari ho imparato il gioco così e me lo tengo così difficilmente andrò a riscaricare a meno che non ci siano proprio dei bug clamorosi vabbè ma quello diciamo che è più è più un discorso per esempio se tu prendi Arkham Horror The Car Game sì l'LCG c'è una comunità che sta lì che segue qualsiasi cosa che magari tutti i giorni sta lì su BGG a discute su quella regola lì quella regola là allora esce loro sanno che esce fuori l'aggiornamento tutto quanto diciamo che l'utente medio non è uno che sta sempre lì magari a controllare guardavo quindi per l'utente medio non cambierebbe niente nel senso cioè sì Fantasy Flight ha aggiornato il regolamento lo prendi solo in digitale l'utente medio manco lo sa continua a giocare con il regolamento che ha e quindi e va avanti così sì 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 no quello sicuramente però è una cosa che comunque anche lì ho il regolamento stampato però magari c'è nella versione vecchia se lo sai se non lo sai come si dice occhio non vede cuore non duole cuore non duole certo va bene va bene dai allora cerchiamo di allora io sono contro questa storia dei regolamenti digitali anche perché voglio capire ci sono degli anziani ok che non sanno mai cosa ha il telefono bene magari cioè tu gli metti un regolamento lì già c'è una difficoltà a capire quello cartaccio questo lo dovrò far reggere dai nipoti in più te glielo metti il cellulare che non ci cacciano magari il 3310 che manco va su internet che poi non riescono a capire cosa devono fare quel QR code cioè basta cioè bisogna fare giochi anche per gli anziani basta con questa discriminazione ma c'è già dei criò e con questo Luca ci ha dato la sua grande anteprima che lascerà la rubrica non solo grandi per fare la rubrica non solo anziani cioè non solo vecchi proprio non solo vecchi non volevo essere proprio così non solo vecchi il problema il problema è che al momento l'unico gioco 60 più è The Crew l'unico marchiato proprio 60 più però adesso invece il secondo The Crew quindi dovremmo anche quello lì forse quello è 65 più addirittura perché non può però scusa tornando allo sponsor del Coriglione del Collirione no? sì su Micro Macro dovrebbero metterci anche quanti gradi di vista c'è di avere minimo? eh guarda ci sono ci sono delle polemiche ci sono delle polemiche eh quello bisognerà Collirione non basta? eh bisognerà contattare l'editore sentire un po' quello che ci diranno loro ma lo sappiamo no? che è una lobby c'è dietro una una gigantesca lobby degli oculisti degli oculisti o degli occustisti? vabbè ma quindi infatti dicevo prima dicevo cerchiamo di coinvolgere un pochino di più Luca che al momento lo sento molto assente sì perché io su questo argomento sono secondo me il kickstarter non è assolutamente conveniente ehm lo era in generale ma no guarda secondo me raramente lo è stato perché cioè è conveniente perché tu prendi una marea di roba e dici questa roba è un'esclusiva tutto questo c'è uno scopo ma in realtà quella roba non la userai mai cioè diglielo diglielo un po' al signor Gianfranco se ci aveva il mazzo con le illustrazioni diverse di The Crew no cioè la maggior parte di queste cose sono cose da collezionisti cioè ma se tu sei un giocatore non te ne frega niente cioè io ho preso destinies su kickstarter è uno dei pochi giochi che ho preso ultimamente e destinies è un bel gioco è un bel gioco allora prima cosa non ho preso neanche tutte le espansioni ne ho prese due soltanto due erano tre ne ho prese due sono ancora la prima scatola cioè ho giocato due avventure perché ho talmente tanta roba che per quanto mi piace anche gli altri dicono giochiamo a quell'altro giochiamo a quell'altro quindi ci metterò per fare tutte le dieci avventure che ho ci metterò almeno almeno ci metterò un anno perché sono dieci serate io mi gioco una volta a settimana un anno ci farò poi le miniature le miniature hanno alzato il prezzo in maniera esagerata le miniature del destinies non servono a nulla a nulla uno non si capisce quando devi prenderne sono talmente piccole che non si capisce cosa tu debba prendere e sono troppo piccole io non capisco qual è ci metto 5 minuti a capire che cazzo devo prendere e poi non servono a niente sono dei segni a posto ma ce l'hai già sull'app e ti danno poco capisco forse quella dei nemici quella dei nemici che è anche più grande quella ha senso ma quella dei personaggi sono assolutamente inutili poi io mi dimentico addirittura di togliere di spostarle quindi poi sulla mappa mi rimane della roba che non c'è quindi lì obiettivamente avessero messo qualsiasi altra cosa avrebbero risparmiato tantissimo quindi una produzione super chiccosa io addirittura ho la magia di farmi sempre dipingere le miniature dei giochi che compro queste mi sono fatte dipingere perché tanto non servono a niente quindi alla fine vai a comprare della roba che serve Chronicle of Crimes gran bel gioco io ho comprato la trilogia nuova Millennium e tra l'altro la consiglio mi è piaciuto tantissimo 1900 che secondo me è proprio spettacolare perché ci sono anche gli enigmi tipo Escape Room che proprio quando tu investighi trovare anche la combinazione della cassaforte o capire qualcosa guardando un enigma cioè risolvere un enigma guardando in 3D vedendo delle immagini collegate cioè spettacolare assolutamente spettacolare e gli altri due sono carini esclusiva Kickstarter i segni il corvo le atture Eiffel e il cane i sagomati il meeple mai tirati fuori dalla scatola mai mai assolutamente inutili assolutamente inutili quella era l'esclusiva cioè per carità va bene l'ho messo nella scatola sono carini da vedere inutili per il gioco ecco questo cioè io ho preso due giochi sono forse gli unici due Kickstarter adesso ne ho fatto vabbè ho fatto anche qualcos'altro però sono due dei pochi che ho fatto adesso mi viene in mente e ti sto dicendo che tutte le esclusive sono sostanzialmente roba inutile vabbè perché nel caso di quelle campagne le esclusive erano diciamo degli abbelamenti estetici nient'altro però se tu prendi casi editrici come la Camon come la Waken Reams che gli stretch goal e le esclusive sono diciamo dei contenuti aggiuntivi per il gioco già lì il discorso cambia un po' sto d'accordo su te guarda cioè io prendiamo Nemesis hai detto Waken Reams giusto? sì cioè io Nemesis ho già il base cazzo ma ne ho cioè sì va bene non c'ho non c'ho il personaggio vabbè cioè non mi serve te davano anche una razza aliena diversa che cambiava il tipo dello stile del gioco ho capito ma io Nemesis cioè ci ho giocato quattro volte cioè un gioco che ci vuole quattro ore cioè non arriverò mai a sentire a sentire il bisogno cioè almeno che tu proprio non prendi quel gioco e dici questo è l'unico gioco per me quest'anno e io gioco solo a questo io ne ho amici così eh c'ho un amico che è lui a Catan oh lui gioca solo a Catan e dico ma a me piace Catan io gioco la colonna di Catan adesso io posso un'espansione nuova Catan lui dopo due anni che aveva Catan si è comprato un'espansione perché dopo due anni ha detto ma forse qualcosa in più dopo due anni allora se sei uno così per carità ti pidi quello giochi con quello per tutta la vita ma se sei uno diciamo un po' cioè come noi che abbiamo una bulimia di giochi cioè io non riesco c'è scatole ancora da aprire cioè la coda di giochi cioè sono andata a Luca e lì mi sono dovuto trattenere ne ho preso solo due ma cioè erano due già due anni troppo cioè non non servono non serve quella roba che poi ti occupa spazio ti occupa non sai dove metterla cioè ma vedi Luca tu fai questo discorso perché tu non sei un collezionista invece molti appassionati di giochi da tavolo non sono tanto più tanto giocatori quanto più collezionisti ed è un dato se sei collezionista va bene ti prendi tutta sta roba che è esclusiva ce l'hai solo tu te la tieni lì oppure la rivendi per carità però se vuoi giocare se vuoi giocare a un gioco sì 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 certo però ad esempio io molti molti che conosco loro fanno magari molte alcune campagne kickstarter per prendere magari anche solo quelle miniature che sono esclusive che so per Nemesis per Zombicide per Tainted Grail per Tainted Grail io ho avuto dei clienti che si sono presi hanno fatto praticamente sia scatola base che espansioni con tutte le miniature in sun drop che sono meravigliose però loro hanno detto sì sì certo prendo tutto perché è bellissimo mi piace eccetera eccetera per carità lì diventa poi è facile poi da giocatore fare quel passo in cui diventi collezionista ne abbiamo parlato nella stagione scorsa abbiamo fatto una puntata succede succede poi anch'io io come poi lo diceva anche White Winston a volte è giusto fermarsi e dire perché io ho dieci giochi che fondamentalmente hanno la stessa meccanica e che magari ci sono sì un pochino di differenze ma niente di sostanziale faccio una scelta alcuni senti ciao basta non ci gioco magari da un anno due anni tre anni cinque anni basta tengo l'idea a polvere e basta no e Kickstarter probabilmente si rivolge a queste persone soprattutto questi Kickstarter soprattutto queste campagne strizzano molto l'occhio a ehi guarda che poi il fatto che è esclusivo vuol dire che se non lo fai in quel momento non lo prenderai praticamente mai più per determinati componenti secondo me questo fa scattare con la molla che ok lo compro poi però per fare un esempio anche non volendo essere collezionisti cioè io ho fatto Tentagrail ho fatto solo il gioco base senza orpelli senza niente l'unica cosa che ci ho aggiunto è stato il pacchetto quello delle missioni personali degli eroi ok e col gioco mi è arrivata la scatola base e mi è arrivato anche gli stretch goal che erano due campagne extra e a quanto pare poi io perché ancora non sono riuscito a giocarlo ovviamente ho fatto una partita in croce però chi ha detto quelle due campagne aggiuntive servono anche a finire l'arco narrativo del gioco se tu consideri che io l'ho pagato all'epoca mi pare che il pledge base era sui 90 pound più forse ci avrò messo 25 pound di spedizione 25-30 pound di spedizione io ho pagato lo stesso prezzo del retail però con l'esperienza completa con l'esperienza completa perché tu adesso se ti vuoi andare a comprare le altre due espansioni devi pagare un extra è certo ovviamente questo era ancora quando non c'era l'iva che era l'altro discorso che vorremmo toccare e quindi diciamo tutto sommato prima ancora se si riusciva a salvare qualcosa nel prezzo del gioco rispetto a quello che usciva in negozio Iuri però tu mi stai mi stai dicendo che mi stai facendo un ragionamento un po' come dire tu hai investito dei soldi tre anni fa cioè questi soldi tu potevi farli fruttare magari raddoppiarli cioè se li avessi investiti in Amazon invece che investiti in Tinted Grail tu avresti triplicato il tuo denaro se l'avessi se quindi tu avessi investito 30 euro quanto è ne sono diventati 90 quindi anche se poi ne avessi spesi 40 per il gioco ne avessi comunque guadagnati 50 sì questo sì quello è un discorso che uno può fare però è anche vero che se io già so che quel gioco me lo compro quando esce il negozio perché non prendermelo con le esclusive i vari orpelli e robe varie sì ma voglio dire quel gioco se esce il negozio se non è proprio una roba che ne stampano mille che sai che vai salito al day one e devi prenderlo a prezzo pieno cioè aspetti un mese a parte che già a prezzo pieno non si compra niente perché c'è il look end e c'è il 15% il 20 quindi c'è prendere un gioco a meno del 15% di sconto è quasi impossibile a meno che proprio non va via al day one e non ne è neanche detto perché magari in preordine è comunque scontato quindi già il 15% ce lo tiri fuori cioè alla fine tu hai mobilizzato del denaro e sì c'hai tutti quegli orpelli però voglio dire scelte sono scelte cioè adesso non so se tu hai altri hobby però io alla fine come hobby ho solo quello dei giochi da tavolo videogiochi compro molto raramente perché non ho tempo di giocarli quindi quando me decido di premiarmi tra virgolette magari mi permetto di spendere anche un qualcosina in più su keystarter però invece quella cosetta un po' più particolare che so che magari dopo non si trova capito certo una persona che ha diversi hobby dispendiosi che può essere che non so c'è un amico mio appassionato di fotografia e video quindi lui ogni tanto se va lì che si compra l'obiettivo nuovo che costa centinaia di euro e così eccola quindi magari lui sui giochi da tavolo lui kickstarter presente non l'ha quasi mai fatti compra direttamente negozio quando va in fiera quelle poi ovviamente rientrano nelle scelte personali però il discorso si il discorso che se effettivamente vale la pena tutta sta roba personalmente io sto indietro come sto veramente indietro 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 ho tanti di quei giochi ancora che devo giocare o iniziare addirittura con tanti di quei contenuti aggiuntivi tu pensa che io di Seven Continents ho il base le tre espansioni del base più la seconda espansione scatola grossa e ci ho fatto una mezza partita ecco lo che dicevo va bene si 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 ma quando mai sono d'accordo perché adesso mi ritrovo in un periodo mio della vita che ho veramente poco tempo da dedicare i giochi e molto spesso poi avevo cominciato ad avere un gruppo di gioco è arrivato il covid e mi si è rotto praticamente e abbiamo smesso adesso vediamo se ricominceremo a fare qualcosina e vado avanti a giocare con mio figlio quando posso però si sono d'accordo con te che non ti dico quel discorso che fai tu è sbagliato però capisco anche da una parte il bello di ce l'ho lì c'è sempre il pensiero dai magari adesso sto a fare l'università sto a lavorare sto dietro ai figli quello e quell'altro l'anno prossimo finisco l'università magari cambio lavoro quindi comincio a fare un lavoro d'ufficio c'ho a fine settimana libero tutte le settimane invece sto sempre a lavorare in ristorante e cos'è nella testa mia capito dico oh ci avrò il tempo da dedicare magari una giornata a settimana insieme a mio figlio a incominciarci a fare tutti questi giochi a campagna questi giochi grossi e robe varie sì 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 è una è normale cioè tutti partiamo con questi presupposti nel senso ora il tempo non ce l'ho ma magari non dico domani nel senso di il giorno dopo ma in un futuro presso che sia esatto imminente avrò modo di poterli utilizzare e potermeli godere guarda allora l'unico momento in cui te li potrai godere è quando sarai alla clinica vecchiacci ma quando sarai alla clinica vecchiacci potrai giocare solo a The Crew quindi c'è di fatto è inutile tutto questo che state dicendo no noi all'Ugly Hold abbiamo bannato The Crew ah cosa giocano lì a Ugly Hold capito perché abbiamo avuto un caso dei due pazienti che se so uno ha coltellato un altro perché gli aveva fatto un'apertura sbagliata abbiamo detto no ragazzi allora è così basta e cosa giocano adesso adesso dipende cioè Sette Rosso e facciamo giocare Sick Nimmt che anche lì vedo che ogni tanto partono delle sberleffe e io poi ho detto il nome in inglese ho detto il nome tedesco Sick Nimmt quello lì eh sì sei le prendi sei le prendi esatto sei le prendi sì perché purtroppo con i nomi italiani dei giochi ormai sono sfasato perché tanto li vedo tutti in inglese o altre lingue quindi tante volte mi rimane difficile sì sì quindi diciamo adesso vanno su questi giochi qui vabbè vabbè l'inghilterra sono avanti esatto sì sì va bene va bene quindi ricapitolando per me no Kickstarter ormai veramente lo uso proprio per adesso penso che sto aspettando ehi là in something shiny ma perché è un gioco che non uscirà mai in italiano non so neanche se uscirà in retail e domani notizia da parte che ne so della lì che c'aveva tutte le copie a bordo però secondo me invece rimane Kickstarter rimane una piattaforma utile per chi vuole andare a scovare quei giochini come fa il nostro Fabio Piovesan che lui va a scovare quei giochi magari piccolini che hanno delle meccaniche stranissime che non arriveranno mai da nessuno cioè in retail veramente che la campagna deve fare 10.000 e fa 12 all'ultimo giorno allora sì mentre ovviamente secondo me per questi grandissimi colossi dove sono un preordine esatto non non ne vale non so neanche se ne valga la spesa secondo me non ne vale la pena no io ad esempio di Kickstarter probabilmente andrò a fare che ne so il o a continuare a seguire quelli di La Serda che ti fanno comunque uscire a un prezzo più umano rispetto al che al retail e quindi tutte le varie i vari titoli nuovi di La Serda e poi più o meno lo stesso discorso con quelli di Jordan Draper che i vari Tokyo Metro Tokyo Jidon Baiki eccetera tutta la sua serie di Tokyo su tutti i Kickstarter in Italia ovviamente non non c'è nessuno li ha mai fatti e secondo me quelli sono dei giochini appunto che poi giochini mica tanto però sono comunque dei giochi che presentano un po' di novità di variazioni del tema e secondo me quelli sono sempre interessanti validi poi lì non si va sul personale sui gusti però quelli sicuramente non vanno in distribuzione quelli non vengono localizzati quindi sono l'unico modo per riuscire ad accedere a un prezzo più o meno contenuto no ma quello indubbiamente quello indubbiamente che start è sempre stata anche una piattaforma nata appunto per questo tipo di progetti che poi è stata ovviamente presa quasi cannibalizzata esatto per praticamente diminuire il rischio di impresa quasi annullare il rischio di impresa annullare no perché comunque chi lancia una campagna ha delle spese che anticipa che possono essere per carità però sì sì quello il discorso è che ultimamente tornando al discorso dell'iva io non vedo più se prima si poteva parlare in alcuni casi di convenienza economica adesso io sta convenienza economica la vedo sempre meno 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 l'ultima puntata che ho scritto che ho presentato steam up che è un gioco del dim sum che ha questi praticamente questi cestelli dove metti dentro gli ingredienti e roba cioè la deluxe sta a 130 dollari canadesi che tradotti in euro sono 90 euro se vuoi non quella deluxe che hai token in legno invece di ingredienti sagomati in plastica te verrà costato i 15 euro e meno un gioco che secondo me è questo un gioco del genere 4-5 anni fa più di 40-45 pound non lo vendevi sì sì quello me ne mi ricordo più di che gioco dovevo parlato con degli amici che appunto uguale stesso discorso prezzi che sono aumentati a dismisura per magari un gioco che non è che ha un target mediamente su molto più basso succede e infatti ne vedo sempre di più ultimamente ma che poi per me personalmente il prezzo non lo fa solo la componentistica ma lo fa anche il discorso il tipo di esperienza che mi può dare il gioco se ti faccio un esempio io ho stato tanto tempo che volevo comprare Imotep ma non lo compravo perché il prezzo all'epoca era 3-4 anni fa il prezzo suo era sui 40 euro però personalmente per me per il tipo di gioco che era per il tipo di esperienza che ti dà non era un gioco che avrei voluto spendere più di 30 euro capisco che c'erano i cubettoni di legno tutto quello che te pare tutto quanto però poi io avevo questa sensazione qui che secondo me l'esperienza di gioco nonostante la componentistica non valeva che 40 euro gioco che a me piace molto non è che non mi piace però tante volte cerco anche di dare un limite di prezzo a un gioco in base al tipo di esperienza che mi può dare certo penso che nessuno pagherebbe un The Crew 90 euro come ha fatto Gianfranco voglio dire insomma potrebbero anche farlo solo per le case di riposo insomma mi aspetto anche che c'è la versione apposta per le case di riposo la Deluxe c'è le carte super giganti no no è uguale è uguale solo che costa di più ah ok sulla scatola c'è scritto 60 più Ugly Old 60 più non è per l'età è per il costo ah ok sponsor by Ugly Old esattamente va bene va bene e quindi beh io direi che a questo punto forse ci conviene fermarci e abbiamo fatto un po' un un punto il reepilogo l'ha fatto anche poco fa Luca secondo me comunque è una sicuramente un aspetto è una situazione in divenire perché non mi aspetto cioè io mi aspetto un po' di non dico novità ma di di sviluppo nei prossimi mesi da parte appunto di Kickstarter perché altrimenti se continua così non so quanto quanto reggerà soprattutto per il discorso di produzione più che altro per il discorso di produzione in Cina eccetera quindi ma non solo per quello che riguarda il gioco da tavolo come dicevamo all'inizio e quindi vediamo vediamo perché come appunto detto in puntata queste nuove aziende magari in Polonia comunque anche in Europa potrebbero cominciare a muovere un po' certi equilibri c'è qualcos'altro che volete dire? no io penso che abbiamo coperto vari punti diciamo per quanto riguardava il discorso dei costi quindi qual è il tuo ultimo Kickstarter ordinato Yuri? il mio ultimo Kickstarter sai che lo devo andare a guardare che non me lo ricordo pensa quanto tempo fa è stato perché ultimamente ho proprio non dico azzerato ma ho minimizzato veramente la grande allora che ho pleggiato appieno è stato Reload della come si chiama? della Colossal Game è un gioco che simula diciamo simula le battle arena tipo come si chiama? i famosi giochi che fanno i ragazzini o i personaggi che si sparano l'ultimo che rimane vince si battle royale battle royale esatto che simula un battle royale praticamente tipo fortnite esatto tipo non mi veniva in mente fortnite e questo è stato raggiunto il goal a febbraio 2021 di quest'anno e questo è l'unico che ho fatto il pledge intero poi ho messo un dollaro qui un dollaro là nel mentre che dividevo su My Father's Work della Renegade Studio che dovrebbe essere un piacciamento lavoratori legacy dove praticamente ognuno ha questa sua magione eredita praticamente i nostri genitori erano tipo degli scienziati pazzi diciamo un po' un po' l'ambientazione un po' quella di Frankenstein e quindi ognuno deve andare in città ha vari servitori robe varie fa vari esperimenti cose varie e poi l'altro che avevo messo un dollarino era canvas reflection espansione perché ho intenzione visto che mi ero perso il base ho intenzione di fare invece alla fine poi ho lasciato perdere ho lasciato perdere completamente quello che vorrei fare se riesco come late pledge oplomacus quello la versione solitario della chip every game che non ho mai giocato a un gioco della chip every game e l'ambientazione quello lì dei gladiatori cose varie che mi intriga parecchio mi piacerebbe riprendere il late pledge dei ess vanguard però anche lì sarebbe un altro gioco a campagna che mi si accumula a quelli che già ho capito e poi che altro non penso ci sia altro che che sta nel mio nella mia lista dei desideri diciamo al momento sì vabbè dai allora facciamo una cosa chiediamo anche ai nostri ascoltatori quelle che sono invece le loro ultime pleggiate o quello che hanno lì in lista tra proprio che hanno messo magari come te il dollarino e stanno valutando scrivetecelo su telegram così ce lo dite tanto c'è anche Yuri nel gruppo quindi al massimo sarà lui a dirvi no no guardate questo qua lasciate perdere oppure sì sì andate tranquilli e io ovviamente noi sia io che Luca ti ringraziamo per la puntata ma scherzi è sempre un piacere anche per noi ovviamente e magari non facciamo passare un altro anno esatto un'altra stagione nel mezzo per la prossima volta e Luca vuoi dire qualcosa? sì fateci sapere se la nostra idea di avere lo spago spaghetti gigante alla con vi piace e noi faremo di tutto per realizzare questa meraviglia giusto giusto ma più importante già sapete la data della con? no assolutamente no assolutamente no anche perché quindi se volete essere sicuri penso che ci siano penso che ci siano un po' di problemi perché noi l'abbiamo sempre fatta a giugno ma la play era ad aprile quest'anno essendo la 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 essendo la play a fine maggio è molto più complicato trovarne una collocazione alla con perché già a giugno faceva caldo quindi non si può certo andare a luglio quindi eh andiamo a settembre quindi Pinco mi sa che dovrà un anticipo eh bisognerà che bisogna vedere quando ci sono anche gli editori con le novità insomma quindi bisognerà veramente che Pinco si adoperi in tal senso no io su cosa io l'ho detto se no se no scusa facciamo facciamo spostare Modena Play ah li contattiamo e gli dici senti noi abbiamo sempre fatto a giugno te arrivi è sempre fatto a aprile nuovo fa maggio perché giusto giusto quindi vabbè comunque indipendentemente da quando ci sarà faremo questo spago spaghetti sì sì se ovviamente raggiungiamo il target esatto bene bene quindi mi raccomando seguiteci anche la prossima puntata dove avrete tutti i dettagli per effettuare le vostre donazioni esatto Yuri la vedetta chiocciola gmail.com per il paypal su questo noi dobbiamo un attimo ancora discutere quindi aspettate nella prossima puntata l'indirizzo ufficiale va bene dai grazie Yuri grazie Luca grazie a voi ciao a tutti alla prossima ciao 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 giochi sul nostro podcast il podcast ludico avete ascoltato giochi sul nostro podcast il podcast